La Pamp di Giavoronok, Murata e poi di testa! Gadassi-Sarra e Lanza mette a segno! Una giocata pazzesca! C'è un'altra Fede Ricci, Orduna spingiata, fatta per Lanza! Una traportata pazzesca! Di filippo Lanza! Cilenese, ricezione di Giavoronok, Orduna all'indietro per Lanza, Morato da De Falco Poi Orduna all'indietro da Lanza, ancora! Fulmina saitta in diagonale! De Falco con l'aiuto nastro alla ricezione di Orduna, poi Federici in bagala per Lanza! E allora, battuta per vivo, ricezione di Peretta, Orduna per Lanza! Mani out per filippo Lanza, 10 a 8! La ricezione di Giavoronok, poi Orduna all'indietro per Lanza! Il frittato è Cileniese! Ricciazione di Lanza sulla testa di Orduna, la fai di Lanza! La difesa di Spalla! Di Abubo che non basta!